Sta scatenando un effetto domino l'indagine sul sospetto di latte e prodotti caseari adulterati dall'utilizzo di soda caustica per ritardarne il processo di acidificazione. L'inchiesta, partita dalla procura di Pesaro e dallo stabilimento Fattorie Marchigiane, riconducibile al gruppo Trevalli-Coperlat, ha portato infatti ad indagare 9 persone, 3 società, e a sequestrare 200 tonnellate di prodotti lattieri e 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti. Le rassicurazioni di indagine sul mancato riscontro di prodotti contaminati immessi sul mercato non accontenta però le associazioni dei consumatori. Sono infatti pronte class action in attesa dello sviluppo delle indagini, così come l'Unione Nazionale Consumatori è pronta a costituirsi parte civile. Intanto, lo stabilimento Fattorie Marchigiane di Coglie al Metauro ha deciso di sospendere la produzione in attesa degli sviluppi di indagine, così come il presidente Gianluigi Draghi ha deciso di rassegnare le dimissioni. Già Paolo Lizzi è stato nominato come direttore di produzione con incarichi specifici su controllo e verifica dei prodotti. Grazie. Grazie.